Vabbè, ciao a tutti signori, stasera sono qua con io e il piccolo Thor Thor, per favore, guarda, su, su, bene seduto, seduto bene Allora, per recensirvi due liquidi, anzi uno, ti ha lasciato il post E' spostato da te, grazie Vabbè, ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale di GiacconiX Svapo Stasera, veste insolita, eravamo un po' stanchi e allora ci siamo Accomodati sul divanello, stasera vi faremo le canalo by DMK Europe Non so cosa sia io, eh Le canalo DMK Europe Me lo faccio vedere bene Di DMK Europe, ricordiamo, ditta francese che ha fatto il Villa Boudoir Allora, cosa dovrebbe sapere? Allora, la descrizione dovrebbe essere un canalo siciliano Un canalo siciliano, io l'ho ancora nasato, un po' al naso mi sembra un po' acidello Allora, in aspirazione sento Lo proveremo ovviamente su Dead Rabbit SQ, complessa da flavor Una flavorless 48 watt In aspirazione sento la cialda croccante del canalo Buono però Accompagnato da una crema Non riesco a stabilire se effettivamente sia ricotta Però è una bella crema E poi vi arriva questo gusto, piccolo gusto di agrume Che vi lascia in fondo la lingua appunto Un gusto tipo limone o comunque un buon agrume Buono, veramente buono E' buono, mi piace Non è molto invasivo E' molto molto bilanciato Quindi non è stracarico E si sente molto bene tutte le sfaccettature del liquido Allora, io in aspirazione sento il fritto Si Un pelo di fritto c'è Senti proprio il fritto della sfrolla del canalo In aspirazione E poi sento questa crema che sembra che ci sia un po' di frutta Però non credo che ci sia la frutta Senti l'agrumato Ricordiamo che il canalo siciliano viene fatto in tanti modi In tanti c'è il candito C'è tipo L'agrume è candito E' difficile da raccontare Mi piace molto la nota di fritto Perché a me il fritto nello svapo mi piace E' una crema buona che però non riesco bene a capire che cos'è Se è del fruttato o qualcos'altro Che non so Io invece riesco a percepire proprio questa nota di agrume Che potrebbe essere limone, arancio Comunque si sente proprio una nota di agrume Che vi rimane in fondo sulla lingua Quando buttate fuori il vapore Potrebbe essere un agrumato Un agrumato generale Secondo me non è più arancia o limone E' un agrumato che non capite che cos'è A me i liquidi così mi piacciono Perché i fritti a me piacciono di brutto nello svapo Perché proprio mi dà la sensazione di Krafen Di roba fritta delle giostre Che poi non ci vado alle giostre Però Cioè proprio Mi piace proprio Allora io faccio anche una cosa Vi ricordo che uno dei miei liquidi preferiti E' il vestige di Primitive Vapor Andate a vedere il video Bastardi Che quello lì è veramente una figata E questo Sto fritto Bravo Prova a assaggiarlo Molto frittoso Buonissimo Buonissimo E' buonissimo Mi piace Mi piace Io gli do Gli do un 9 9 pure io E sono convinto che comunque Nonostante sia un fritto Un cremoso Non stanca Perché No Assolutamente No Perché sentite questa cosa di fritto Ma non è pesantissima No assolutamente E poi Il liquido E' come se Vi pulisce la bocca Nel senso che Poi quando Quando lo buttate fuori Boh basta Non avete più niente Un po' qualcosa ci avete Ma non rimane Quindi Non appesantisce Buono buono Bravi Questo qua mi piace Rifacciarvi i complimenti a Pat Che salutiamo Complimenti Pat Vi ricordo di Spiaciare il video Seguirci Seguirci su Instagram Seguirci su gruppo Facebook Se vogliono Possono recensirci su Flavorito.it Benissimo Bastardi Con l'ultima sbavata Di giocone Ci vediamo al prossimo video Va bene ciao Ciao